Taglio del nastro ad Avellino in contrada a Baccanico per tre aree adibiti a verde pubblico. Si tratta di Villa del Franco e di due spazi, uno in via Sarro e uno in via Maffucci. All'inaugurazione presenti i bambini delle elementari, il sindaco, il vicesindaco e l'assessore ai lavori pubblici preziosi, dal quale arriva l'impegno a tutelare gli spazi attraverso la manutenzione, ma anche l'invito ai cittadini ad utilizzare in modo corretto e civile gli spazi. L'assessore inoltre annuncia che venerdì riaprirà un altro tratto di Piazza Libertà. Questo intervento di contrada a Baccanico praticamente constava sia della parte di strade e sottoservizi, sia questi tre parchi Villa del Franco, quell'altro che sta a via Maffucci e l'altro a via Sarro. In realtà già erano terminati da qualche mese, però aspettavamo dei momenti diversi. Abbiamo deciso la settimana scorsa di aprirli, perché in fin dei conti restituire pure questo tratto di città alla popolazione. Questo è il secondo intervento chiuso con i fondi di Europa Più partiti con noi a novembre-dicembre del 2014. Il primo è stato Corso Europa. Adesso c'è questo di contrada a Baccanico. Vi annuncio che venerdì apriremo anche mezza Piazza Libertà, cioè tutto il tratto davanti al Vescovato. Grazie. 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 Grazie.